Non Rocco, ci vuole illustrare il programma di quest'anno delle feste patronali come verrà svolto? Sicuramente in una maniera non convenzionale, ma sicuramente innovativa e originale. Certo, ho utilizzato spesso in questo periodo una frase per dire ciò che ha provocato un po' la pandemia. Il fatto che la comunità cristiana non si ferma, ma cambia. La Chiesa in questo momento storico ha potuto riscoprire ancora di più, sull'esempio di Maria, la sua vocazione di madre. Madre che si fa carico di un popolo che chiede aiuto in un momento particolare. Durante gli altri anni c'era questa grande tradizione di allestire altari all'interno delle corti del centro storico. Quest'anno ci siamo chiesti come potremmo fare qualcosa del genere se non ci si potrà radunare nelle corti per evitare assembramenti. Abbiamo pensato di far entrare gli altari mariani all'interno della nostra Chiesa. Come? Potendo allestire gli altari mariani non nelle corti, ma all'interno delle proprie case. Facendo diventare quegli altari un momento di preparazione per vivere questa festa del cuore e del paese. Potendo poi fare in modo che le foto dei propri altari mariani, mandati per mail anche al Comitato Feste di Bitonto, potessero essere visualizzate in diretta durante la veglia. Quest'anno abbiamo pensato anche di indire un concorso, un concorso letterario, che permetterà ai ragazzi dalla quinta elementare e alle classi anche di scuola media di poter raccontare sia storicamente quello che è stato il miracolo avvenuto il 26 maggio del 1734, ma poi potendo portare anche la propria fantasia all'interno di questo racconto. Ciascuno potrà poter partecipare personalmente inviando questo scritto all'indirizzo mail che troverete sulla pagina del Comitato Feste. E poi questi lavori saranno in qualche modo letti e da una giuria poi giudicati per cercare anche di capire quale di questi scritti sia stato il più corrispondente un po' alla tradizione, ma anche a quello che è l'originalità di ciascuno di viversi questo momento all'interno di un altro contesto storico. Ecco, l'altra gara, se vogliamo chiamarla così, è stata quella dei Gio Madonnari, è stata chiamata in questo modo. Cioè i ragazzi, non potendo quest'anno vedere le luminarie, non potendo vedere tutto ciò che era da corollario alla festa, immaginare la festa e pensare come quest'anno io immagino la festa patronale e mandare i disegni sempre al Comitato Feste, all'indirizzo che trovano sulla pagina Facebook. Saranno poi esposti nell'atrio della cattedrale e poi giudicati da una giuria che assegnerà un premio a colui che magari è stato un po' più originale in questa creazione della festa personale. Non dobbiamo illuderci di poter vivere la festa in maniera quasi inesistente, invece ancora più forte vogliamo viverla facendo in modo che questo momento storico possa dare a noi dei messaggi diversi, ma certamente fedeli a quella che è l'originalità di questa festa patronale. Grazie a tutti.